Quest'Italia che cambia siamo noi Due giorni, abbiamo creato un format di due giorni che si chiama Cambiar vita dalla teoria alla pratica dove affronteremo di volta in volta i temi alla base del cambiamento quelli che abbiamo raccolto in questi sei anni in giro per l'Italia quelli che abbiamo raccolto nei nostri tavoli tematici nelle visioni 2040 ci sono due tipi di moduli, uno è con un docente d'Italia che cambia io, Daniela o Andrea, condurremo i partecipanti in un percorso attraverso il cambiamento individuale e quello collettivo quali sono i freni principali a questo cambiamento, i problemi e quali le principali soluzioni che sono state concretamente messe in atto nel paese Due giorni nelle città da nord a sud e un altro modulo a fianco a questo è quello dove prendiamo un tema invitiamo uno dei tanti collaboratori meravigliosi d'Italia che cambia esperti di alimentazione, salute, permacultura, transizione e mille altri temi e gli chiediamo di sviscerare quel tema e di permettere a chi partecipa di assaggiare questo cambiamento e di capire da dove partire vi aspettiamo in uno dei nostri tanti weekend dalla teoria alla pratica a presto